Sulla scia dei fatti del dicembre scorso, quando vi fu la tragedia in discoteca a Corinaldo, il questore ha disposto misure di prevenzione, in particolare controlli per accertare le condizioni di sicurezza dei locali notturni cremonesi, controlli a 360 gradi che comprendano non solo il rispetto dei limiti di capienza, delle idoneità e conformità alle norme dei locali, ma anche controlli stradali all'uscita e al personale in materia previdenziale e assistenziale. Il primo di una serie che verranno attuati sul territorio è stato ieri sera al Giuliette. Il blitz è scattato intorno a l'una di notte, impegnata la questura, la polizia stradale, i vigili del fuoco, l'ispettorato del lavoro. È un'attività iniziata questa notte intorno all'1.30 che ha interessato il loto locale pubblico, il Giuliette di Cremona, che ovviamente rientra nell'ambito dell'attività generale di controllo del territorio, focalizzata soprattutto ad assicurare all'utenza di poter fruire nella maniera più sicura possibile dei servizi dei locali notturni. Quali le forze coinvolte? La questura di Cremona, la polizia stradale della sezione di Cremona, il personale dell'ispettorato provinciale di Cremona e dei vigili del fuoco di Cremona, ciascuno ovviamente per quanto riguarda le proprie specifiche competenze. Ha portato all'accertamento di una serie di situazioni che verranno ovviamente esaminate più approfonditamente e eventualmente rappresentate nelle sedi opportune. Alcune irregolarità sono emerse ma si attendono ulteriori verifiche. Per quanto riguarda il lavoro è stato individuato un lavoratore in nero, alcuni addetti alla sicurezza che prestavano servizi attraverso appalti e su cui sono in corso accertamenti. Irregolarità riguardano pagamenti di contributi previdenziali che mancherebbero dalla metà del 2017. All'esterno la polizia stradale ha controllato in tutto 40 persone, di cui tre uomini denunciati per un tasso alcolico sopra il limite.